Pronti per partire Argentera Ski? Il meteo poteva... Un giornaliero mi ha dato il biglietto, mi ha detto che devo faticare anche oggi. Non è male che fa bello. Il meteo non è cambiato tanto per ora, però neve è super. Ecco la vecchia seggiovia, la rimpiangiamo. Ecco il sole che sembra spuntare. Ecco che in un attimo... siamo arrivati all'arrivo nella seggiovia. Ecco i miei soci. Tu che ti fidavi cosa diceva il mio meteo? Scusa. Diceva neve è bassa. Il mio meteo era l'argentera, non era... cima. Eccoci arrivati in punto e chi trovo anche un collega. L'alpe nella meta. E la stessa coppia. Devi fare il video a noi. Mi piaceva di più il panorama. Scherzo. E la stessa coppia. Mi piaceva. E la stessa coppia. E le vissere. E la stessa coppia. E la stessa coppia. raga è troppo bello abbiamo deciso di ripellare però non un filo in giù ecco di nuovo pronti per ripartire e ritornare speriamo dove c'è ancora il sole mi sembra di averlo già fatto comunque questo pezzo è un deja vu eccoci di nuovo arrivati prima era tutto col sole adesso più o meno e vai ciao 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 ecco eccoci arrivati neve spettacolo il meteo deve essere meglio dai però un po di sole l'avete visto ora ultimo difficoltà e ora dite powder ciao ben buonga ciao 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 arrivederà